bpm se c'è la scoppiettone 135 è margine di sicurezza ha già tutte cose ok ma è ma è ma sanda piano è che cosa ha fatto una regola è dato una regola che non capire se questa è quella blu sanda bene ok anche questo perché c'è la radice in tralice non No Grazie Grazie